Grazie di essersi offerto volontario per il nostro esperimento signore Infermiera accompagni il paziente al lettino Si rilassi E ora sentiamo, sa dirci quanti piani è esattamente il tramezzino multistrata ideale? Tempo è scaduto, la risposta esatta era mai abbastanza Proviamo con un'altra domanda Qual è il momento migliore per godersi un frappè con le patatine? Tempo è scaduto, la risposta era ogni momento Come Scooby-Doo, I see you Pretend you've got a sliver You're not full of me, cause I can't see The way you shake and shiver You know you've got a mystery to solve Let's go, let's go, let's go Scooby-Doo, if you come through You're gonna have to tell me you'll be sad That's not bad Scooby-Doo, here are you You're ready, and you're a villain We can have a new TV day You're a catch-up, villain Shhh Grrrr 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 Grrrr